tanto per un po' che ti distende wow wow conosce un po' di l'aria Giorgio è valente sbattere con i miei vallori perché sono stupendo se no... può essere stupendo la canetta aspetta che attacco il fuoco Giorgio Giorgio ci sei? buono ha preso un'asciugatura rapida e poi te la fai e te la fai per me è troppo duro dobbiamo prendere quello più molle che così ti risce meglio no, papà la se sta ma io devo scappare un po' Marco va bene il fondo ehi la prolunga vallando non riesce a respirare vallando che spire nei carità cavalliando spire ha 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 ma sono giù perché è che fa sti per spire che respire ma non moco ma non moco la pena la faccia non è c'è ok e se non funziona questo dobbiamo prendere il gesso più rapido ti posso soffiare in bocca se toccano le bale che voglio chiedere poi mi tiga una gossa di acqua quanto che supera l'aprio in seta non è un mandoloso si sta asciugando con me ancora 5 minuti da fermo guarda che ti faccio con l'aria fredda c'è una mosca appoggiata sulla cannetta Giorgio che poi la copre non fa dove c'è la cannetta stai lontano dalla cannetta si sta scutando stai lontano dalla cannetta stai lontano dalla cannetta eeeh ti fai ahahah ahahah via al cane dopo ci ci prendiamo in piscina si ferma per dire il tuo ahahah no di te che vuoi fare sta fermo con le macchina se spulchano e tutte piangono bella dopo ti abbattere su un piscino no ma ho stermutito un attimo io ma avevo la birra in bocca per quello ahahahah ah ahahah ahahah ahahahahah Noi, noi, noi! Pepe, noi rar. Poi venire tutto? Quando pensi che possiamo toglierlo lo togliamo. Prova a toccarlo, toccatelo. Prova a toccarti la maschera. Prova a toglierlo piano. Proviamo a toglierlo perché questo qua adesso facciamo piano. Stai lì eh? Lo taglio dietro. Manco stai fermo. Alza appena appena la testa che taglio la carta per lì. Stai lì. Guarda quello più difficile. Per me si storta, non si piega. Perché è troppo molle. Ti sei un po' sudato. Siete che fosse rimasto o no? Aspetta, sta lì eh. Ah, li stai muovendo la testa? Dio, Dio, cane. Sta lì. Aspetta. Aspetta. No, aspetta a tirarlo via quello lì. Secondo me è il caso che ti alzi. E si piega a lui con la testa. Prova a alzarti. La tengo io. No, è troppo. Il primo tentativo è fallito. Il primo tentativo è fallito. Aspetta eh. fa il bagno con la gonna. lì.